Uno degli eventi del calendario del settembre Terramano è la Peristreet, che torna in una veste nuova. Francesco Marcellini, Franceschiello Eventi, è tutto pronto? Siamo in work in progress, nel senso che stiamo lavorando giorno per giorno con questa nuova location che è Largo Madonna delle Grazie e devo dire che i Terramani hanno apprezzato, perché ti posso dire che in tanti mi hanno mandato messaggi anche positivi, perché andiamo a risvegliare un lato della città che è un pochettino più morto, diciamo tra virgolette, quindi secondo me la Peristreet si presta molto per quella piazza. Perché proprio la piazza del Largo della Madonna delle Grazie? Guarda, è stata una scelta un pochettino assistita dal comune, anche con l'assessore Canzio, proprio per un problema anche rispetto alla sicurezza. Sai benissimo che le norme sono cambiate, non è più come prima e dato che la Peristreet è una manifestazione che fa migliaia e migliaia di presenze, è normale che un attimino da parte delle autorità, da parte del comune spaventa un po'. E quindi abbiamo cercato una location dove poter operare in modo più tranquillo. Se tu conti la piazza Madonna delle Grazie, a parte che è più grande di Piazza Martiri, ma poi alle vie di fuga, ci permette di lavorare e di operare in un modo un pochettino più tranquillo. Ecco, questa è stata la motivazione principale. Come ti ripeto, con l'assessore Canzio abbiamo fatto delle valutazioni insieme anche ad un tecnico perché abbiamo fatto questo progetto sulla sicurezza e quindi abbiamo visto che la piazza si presta molto meglio che Piazza Martiri. Quale sarà la ricetta di questo Peristreet? Chi ci sarà in console? Come si svolgerà? Guarda, abbiamo una sorpresa, logicamente non te la posso dire perché si chiama sorpresa. Il format è sempre lo stesso, noi non abbandoniamo mai quello che sei benissimo, no? Che non si abbandona mai un format che funziona, un format che piace alla gente. Anche se come ogni anno ci sono state tantissime critiche, tantissime persone che si oppongono, ok? Noi andiamo avanti per la nostra strada, pure perché alla fine il risultato parla. Io non dico mai niente, non parlo mai di numeri, non dico mai niente. Parlano le persone. Abbiamo tante, tante presenze. Ti posso dire che abbiamo tantissime prenotazioni e quindi il format è sempre lo stesso. Quello con l'aperitivo che parte dalle 21, servito al tavolo, dopo di che dalle 23.30 partiamo con i nostri punti bar, quindi con i cocktail e con qualche altra novità anche sotto questo punto di vista e con le persone che arrivano dopo cena, che ne saranno davvero tantissime.